La cioccolateria Lorenzo è una piccola impresa di famiglia e ci piace essere famiglia anche in ambito strettamente lavorativo con le persone che lavorano insieme a noi e quando ci è stato proposto appunto di essere partner di questo progetto e poter aiutare ad inserire professionalmente minori non accompagnati siamo stati felici di accompagnarli in questo percorso che è non soltanto di formazione ma anche un po' di accudimento perché è il modo in cui intendiamo il nostro lavoro. Noi siamo in sei, tutti partecipi del lavoro dell'altro e quindi pensare di accogliere Abdul in questo caso nel nostro laboratorio ha voluto dire non solo aiutarlo ad intraprendere questo percorso in un ambito che lui desiderava conoscere ma anche un po' penso aiutarlo a farsi strada nelle relazioni lavorative che spesso possono essere anche complicate, complesse che da noi appunto proprio perché ci sentiamo un attimo famiglia forse sono più morbide e più accoglienti. Mi chiamo Abdullah e mi sono fatto alcuna esperienza del facilitatore orientatore poi in cui mi sono stato scelto da un'azienda che si chiama dall'inizio mi hanno chiesto che cosa vorresti fare e come esperienza ho detto ho voluto sempre fare i patisseri, fare i dolci, le torte, i compleanni e abbiamo trovato un posto che si chiama Soccolozzeria Lorenzo che è qui e mi hanno ospitato loro, ci rispettiamo e mi sento bene, accoglienza, facciamo delle torte tipiche da solo con le ricette posso fare qualsiasi torta, mi fanno imparare le cose veramente che non ho mai imparato a casa mia.